E' l'ultimo dei cinque grandi eventi di Pesaro 2024. Si chiama Remote Pesaro, il progetto che dal 3 al 16 ottobre verrà portato in città dal gruppo teatrale tedesco Rimini Protocol, replicando un esperimento già testato in Italia a Milano e Cividale del Friuli e organizzato a Pesaro grazie ad Amat e allo special partner ad Eco. Si tratta di un esperimento sociale collettivo e inclusivo che unisce l'intelligenza artificiale alla collaborazione tra individui esplorando le vie della città e interrogandoci sul modo in cui le nostre decisioni personali vengano influenzate dalla tecnologia ricadendo poi sulla collettività. Con Remote Pesaro si parte dal cimitero centrale con un gruppo di 40 persone che passeggia per la città per 110 minuti indossando un paio di cuffie e guidato da una voce registrata. Un'esperienza che vuole portare a interrogarsi su come vengano prese le decisioni collettive quando l'essere umano è guidato da un algoritmo. Il progetto consiste in una camminata che verrà eseguita attraverso un'audioguida e ci sarà quindi un gruppo di 40 persone che inizierà questa camminata a partire dal cimitero di Pesaro per poi continuare verso il centro della città. Il progetto riguarderà principalmente la prevedibilità dell'essere umano e quindi verranno eseguite delle scelte sia a livello individuale che a livello di gruppo. Il Ribini Protocol rappresenta uno dei 45 progetti in termini di portata di evento, probabilmente è uno dei primi 4-5 assieme a Rosegart, assieme a Abramovic, assieme a Sakamoto e che ha come trinomio di riferimento tecnologia, patrimonio e sostenibilità. E quindi tra l'altro ci viene anche abbastanza facile spiegarlo in un anno in cui abbiamo specialmente in estate potenziato le visite ordinarie alla città attraverso il tour capitale, il tour Rossini, che ovviamente sono tour nuovi dal punto di vista dei luoghi frequentabili, ma molto classici e analogici dal punto di vista di quello che si può vedere. Invece qui appunto poggiando su le possibilità della tecnica e della tecnologia, in particolar modo anche dell'intelligenza artificiale e del digitale, sono delle visite completamente inedite perché le emozioni e il background del visitatore, di quello che va a incontrare, rielaborato dell'intelligenza artificiale fornirà un'esperienza sempre nuova e condizionata da quello che poi è il modo del cittadino, del visitatore di vivere i luoghi. E quindi è un'esperienza unica dal suo punto di vista sicuramente mai proposta da noi grazie a questo collettivo tedesco Rebini Protocol che ha già lavorato su altre città, chiaramente, ma che si sperimenta per la prima volta su Pesero e quindi sarà un modo innovativo, mediato dalla tecnologia dell'intelligenza artificiale, ma che parte però dalle nostre emozioni per vivere la capitale in maniera nuova e inedita. Questi eventi sono importanti perché, come dire, lanciano Pesero a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, con progetti anche innovativi e l'idea di Pesero e capitale italiana della cultura è stata quella appunto di non puntare su progetti che potevano sembrare scontati, cioè una classica mostra come si possono fare in tanti posti, ma pensando anche ad iniziative culturali appunto nuove e che lanciassero Pesero sempre più a livello internazionale.